Musica Ok qui ragazzi sono io Il Far West Strenus Far West di Valtimura cazzo No il treno Twic ma ammazzato il treno Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati Nel canale di Strenustrici sono qui col prodissimo Twic Ciao Twic Ciao ragazzi E siamo su Fistful of Rags ragazzi Uno dei più bei giochi che abbia mai giocato Mi piace troppo perché chiaramente Eh chiaramente sto per essere ammazzato non è vero Sì assolutamente sì È uno dei più bellissimi gioci ragazzi che parla di Cowboy e Vigilantes Allora ragazzi chiaramente le dinamiche sono come quelle di CSGO Un po' un tutti contro tutti in questo caso Ed è bellissimo ragazzi Spero che il video vi piaccia E adesso scateniamoci Twic per questi bellissimi saloon Con i Cowboy Strenus Cazzo porto gioco una doppietta Facca aspetta 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 Ma non muore qualsiasi di noi No cazzo No 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 la dinamite Facca aspetta ok Molto bene Dinamite è vicinissima Twic che tu lo sai è vero che prendendo i liquori logicamente recuperi vita Quindi te lo dico giusto per avvertirti Questa non la dà Sì ci sono i liquori per la mappa e con quelli recuperi vita Allora ragazzi chiaramente come armi avete visto Che cazzo Ma no 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 Ricarica 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 Sì Strenus Bellissima Ok ragazzi chiaramente Come dicevo Scusate Twic Logicamente ci ho fatto prendere un po' dalla passione Ma questo gioco ragazzi Ha dell'epico E soprattutto Quasi non per Quasi a farlo apposta Lo stanno incominciando a patchare molto Spesso Giusto da quando abbiamo cominciato a Giocarci Twic intanto io sto andando avanti di doppie Mamma mia un'altra No 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 Dinamite Dinamite Cazzo che culo Benissimo benissimo Cioè non per dire ma avevo uno di vita Avevo uno di vita impressionante Gioco fantastico Apprezza Strenus Apprezza Strenus questo gioco Dimmi Sono morto col Perché mi hanno tirato una pistola in faccia Davvero? Ma che figata Cioè ragazzi non so se notate ma adesso ho due armi Nella sinistra la Volcanic E nella destra un'arma tipo fucile a pompa Cioè non c'è più scampo per i nostri cowboy Twic se vieni nel salone è pieno di liquori E possiamo ubriacarci E pensare appunto alla fine dei tempi Quando non ce ne frega Assolutamente niente Andiamo qua Oddio Ecco qui lo sceriffo Strenus È giunto in città ragazzi È il momento di sparacchiarsi Vaffa No cazzo Sì che culo Sono scarsissimo ragazzi No merda 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 Oh che culo No ragazzi Twic non sto facendo una roba allucinante Sono unstoppable Unstoppable proprio Ok perfetto Beviamoci un po' di liquori ragazzi Mentre ci nascondiamo nei cessi Twic dove sei? Non so dove sei Spero che non sia stato tu quello che mi ha ucciso Perché se sei stato tu Giuro che mi vendi come un dannato Un dannato Probabilmente dovrai Madonna ragazzi Assurdo Ho 5 di vita Però stavolta mi fanno secco sicuro Dimmi dove Se mi dici dove stai Sono praticamente Dentro una casa Con degli scaldabagno sporchi di sangue Vediamo se posso uscire da quest'altra parte Da dietro Assolutamente sì Che figata No Ragazzi epico Sono terzo Twic dove sei? Dove sei in classifica? 37 di notorietà ragazzi Chiaramente in questo caso Vince chi ha l'autorietà più alta Quindi chi fa più casino in molte parole Allora ragazzi Cerchiamo di cambiare arma Vediamo un po' Cos'altro ci riserva questo bellissimo gioco La colt nevi ragazzi L'ho già provata Ed è una tamarrata Proprio schifosa Da quanto È bella Allora ragazzi Chiaramente partiamo con la nostra colt nevi Pistola assolutamente famosissima Nel vecchio west Non cercare di scappare Lenzo power Ricarica 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 No No che sfiga Assurdo Cioè mi sono messo a ricaricare l'arma E purtroppo Non sono riuscito assolutamente A fare un tubo Oh Questi qui che rompono i zebedei Vediamo un po' Tweak dove si trova Ok Dynamite Ok ho trovato un po' Un bel candelotto di dinamite Cerchiamo di farlo saltare qua In mezzo alla gente Altro candelotto Un'unico incosciente Che cammina sulle ferrovie Che bello Sono in chiesa Sono in chiesa adesso Chiaramente parroco strenus Mamma mia Ha due di vita questo stronzo Si No Ah cazzo Mi sembrava immortale Bellissimo tweak C'è uno con un calcio Con un culo fuori Aspetta che Gli do un calcio nelle chiappe Se si può C'è uno sulla chiesa Morto Con le chiappe fuori Niente Non si può fare Va bene Allora ragazzi Chiaramente cercheremo Di prendere anche queste casse Che per chi non ha visto Il primo gameplay Non lo sa appunto Ma è una bellissima Cassa che ci permette Di avere delle armi potenziate Le casse sono di diversi colori Mi sembra che la cassa d'oro Sia quella con Diciamo le armi più Più rare Tu correggimi se sbaglio Sì è giusto Esatto E Mamma mia Aspetta tu No è impressionante Ma che cazzo No è impressionante Quello che ho fatto io Sono morto su una dinamite Cazzo Sì L'ho vista Ho camminato sopra No vabbè È assurdo È assurdo Madonna Santa Ragazzi No La dinamite Fuck Ok Non sento più niente Tu che per niente Mi ha assordato la dinamite Molto molto bene Ragazzi comunque siamo i pistoleri Di baltimora Qui non si scherza Qui c'è dell'alcol Benissimo Beviamo Ok bevo un attimo in chiesa Tu che se viene a celebrare con me Potremmo fare un casino Della miseria Dobbiamo imparare Dobbiamo imparare a darci Degli appuntamenti Qui su quella mappa Se no non ci incontriamo mai Allora vediamo un po' Vediamo un po' Chi c'è qua Madonna Santa Gli ho dato un colpo È già morto Che estrenus Ragazzi chiaramente Mi ricorda molto Che il gioco Call of Juarez È bellissimo game Che Twickenham Ha giocato fino a scoppiare Mamma mia Ma cosa faccio No Twickenham Sono illegale Mi comincio ad essere illegale Sono terzo Ma sono illegale È già illegale Ok Oh mio Dio Oh mio Dio No vabbè Questo cosa crede di fare Headshot da paura Che figata Bello sto gioco Bellissimo No è troppo bello Twickenham Bellissimo perché La sua soglia di entusiasmo È questa Bella questo gioco No comunque Comunque ci sta Fuck 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 Ho detto un quello sul tetto Sì No Twic Perdonami Perdonami Twic Madonna no Cazzo Eh perdono cacchio Ok bevo un po' di No che sfiga Sono stato ucciso In malo modo Peccato 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 davvero 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 Un'ottima strategia Allora va bene ragazzi Dunque siamo Sono secondo raga A meno un casino di punti Dal primo È praticamente impossibile Prenderlo Ma in queste The fuck Ma cazzo Ho sbagliato tasto Questo gli do un calcio Nel culo Non muore No 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 Aspetta che sbaglio tasto Cazzo No cazzo Epic fail Granata Mille chiappe Io me ne vado No Scena davvero Tragicomica Che cacchio Ho sbagliato tutti i tasti Ho premuto 60 tasti E nessuno di quelli Mi ha dato la possibilità Di fare un tubo Ma qui ragazzi Veniamo baciati la fortuna Ho trovato una cassa blu Allora Accetta Mary's leg Dovrebbe essere tipo Un fucile a pompa Esatto Bellissimo fucile a pompa Ho due armi adesso E quello a sinistra È davvero potente Allora ragazzi Mary's leg Della cassa blu Molto molto bene Vediamo un po' Se riusciamo a fare casino Molto bene Uno è andato Cazzo cazzo Sono praticamente Dietro una cassa Che scappa Come un verme Sono No Mamma mia Ok non eri tu Per fortuna Quello che ho ucciso adesso Non eri tu Molto molto bene Tweak Andiamo un po' Ok Qui ragazzi sono io Il far west Strenus Far west Di baltimore Cazzo No Il treno Tu che mi ha ammazzato il treno Ma lol Mentre proprio dicevo Sono strenus di baltimore Ma mi ha dato la sportellata al treno Da fuck Come cazzo È possibile Che non muoiono Eh devi Allora mi raccomando Una strategia ragazzi Che non ho detto Non per farlo esperto Dei poveri Perché non lo sono assolutamente Lo vedete che sono Nabbo da scagareggio È evitare ragazzi Di muovervi quando sparate Cioè cercate di fermarvi un attimo Guardate che roba È big fail Ehm Vi fermate un secondo Prendete la mira E sparate Insomma Siete molto molto più precisi Molto bene ragazzi Ma che figata Cioè non c'è scampo per nessuno Proprio Impressionante Estrenus Estrenus sta arrivando Con la colt Qui Estrenus sta arrivando Con Tweak che sta Fumando Ah Tweak Vediamo un po' Tweak Allora sei questo qui? Assolutamente Mai No io sto dietro alla chiesa Dietro alla chiesa Molto bene Dietro la chiesa Allora dietro la chiesa potrei esserci anch'io Tweak vengo dietro la chiesa Vediamo un po' Sei tu questo? Dunque no Qui sono Aspetta in un locale Assolutamente no Ho un accolto in mano Mamma mia Sì Allora vediamo Io sono dentro qua Una specie di cassa Una casa piena di liquore Che continuo a bere Sono un ubriacone ragazzi Da Stamberga Vediamo un po' Perfetto Molto molto bene Allora procediamo con il nostro gameplay Oh madonna vado di traverso Tu che sono ubriaco Forse è meglio calmarsi Una Cazzo ma Ah ecco ti ho fatto 60 headshot Fuck that Molto bene Ah ragazzi mi sto skillando Di brutto E Tweaknam dov'è? Tweaknam comunque raga Guardate dov'è in classifica 110 di Come si chiama? Di notorietà Benissimo Notorietà Ok Oh madonna Questo è il fucile Aspetta che prendo fuori Larry Bene Ti sento perfettamente Tweak Allora vediamo Larry non ce l'avevo No cazzo Fuck Peccato No peccato No vabbè Ragazzi chiaramente avevo trovato Larry Che è un fucile abbastanza preciso Vediamo un po' se riesco a prenderlo Allora primaria Assolutamente mai Non so perché Forse perché devo raggiungere un certo livello Per poterlo avere La volcanic Mi sembra un'ottima scelta Per questa volta E Ride end Sempre Una scelta Obbligata Andiamo un po' Intanto usiamo la dinamite Che la accendiamo col sigaro Ragazzi Di notare Figata Credo di aver Ho colpito qualcuno Con La dinamite Mamma mia Ho ammazzato tipo tre persone Con la dinamite Ho fatto 60.000 danni A 60.000 persone diverse No ho mancato Fail 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 No Tweak Oh cazzo mi sono mezzo ammazzato Allora Tweak Vorrei sapere se sai come si corre Questa è una domanda stupida però Non si corre C'è questo gioco Sicuro? Fuck 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 E E E come CS praticamente Ah ho capito Ah fuck Cioè uno entra In un locale Volevo chiedere da bere Niente di più E mi hanno tirato una sportellata in faccia Che diavolo Molto bene Allora ragazzi Sono a 309 Il primo a 409 Il terzo a 280 Mentre Tweak Si sta appunto Abissando Non è vero Sì siamo attorno ai 100 di notorietà Molto molto bene Ragazzi abbiamo cambiato armi Sì è abbastanza Ciofecoso Però Vediamo un po' Allora Coltello di lancio Che lo possiamo usare in due modi O per Appunto lanciarlo Preso No fuck Cazzo no Pensavo di essere Jason Statham Invece ha fatto una scappellata Proprio grossa Molto molto peccato Vediamo Allora Tweakone Allora 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 Vediamo un po' Mancano chiaramente ragazzi Due minuti e cinquanta Dove sei Tweak? Ecco Appena morto Ok Cerchiamo di trovarci in un punto a noi comune Dimmi dove sei arrivare Io ti raggiungerò Ah merda Oddio Oh No gli avevo fatto headshot Allucinante Si ho fatto un po' Oltrepporeggione Però va bene Ah ok perfetto ragazzi Procediamo Comunque mi piace più La Colt Assolutamente mi piace più la Colt Della Volcanic Tu con la Volcana Che spara Cioè Non è vero Ho fatto un deal Con la Volcana Si era un double headshot Intanto stavo facendo un double headshot Assolutamente Degno di nota Vediamo un po' Qui c'è Madonna Che cazzo sfiga Allucinante Stavo anche zitto Perché mi stavo concentrando Al massimo Ma vaffano Peccato Peccato Peccatissimo ragazzi Va bene Tu che non riuscirò mai Ad arrivare la tua Bellissima chiesa Sei ancora in chiesa? No sono morto Ah ok Sono morto anche io Palesemente Vediamo No fuck Eh che cazzo di sfiga Adesso comunque sto prendendo calci Nel chiappe Assolutamente ragazzi Manca un minuto e venti Circa la fine della nostra partita Lunghissima Spero comunque che vi sia piaciuta Vi ricordo Di visitare anche il canale del Tuicco Che ragazzi Non ha ancora molti video Ma è davvero un pro gamer Chiaramente Lo seguente ragazzi Sto Palesemente scherzando È un po' scagareggiofilo come me Ma assolutamente più pro Quindi Oh mio dio Oh fuck Che cazzo Peccatissimo Davvero peccato Oh sto colpendo 60 persone Non ammazzo mai più nessuno Devo cambiare arma Devo usare la colt Che mi sento Assolutamente pro con la colt Ah colt Prima arma But Ah ecco Ecco quali sono Praticamente No non è vero Se metti gli scarponi Fai male solamente Dando i calci E vai anche più veloce Non è vero Vai anche più veloce Ecco come fai A muoverti rapido E inesorabile Con i tuoi amici stivali Ragazzi benissimo Qua ci sono gli stivali Della Nike I vetri non si rompono Lol E vi ripeto Raga Ecco questa c'è una cassa da morto Con il nome Twickenham so Bra Fuck bella Ok Ricarica 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 Prendi la Derringer Che ragazzi Per chi non lo sapesse Questa qui era praticamente La pistolina Che usavano nei saloon Le belle dame Che facevano lavori L'antico lavoro Lavoro più antico del mondo Ragazzi Quindi Noi useremo la Derringer Come se fossimo Tale donne Assolutamente Mai Ragazzi Allora procediamo Twickenham Si sta destrecciando Credo Finita qui Ragazzi Chiaramente Finita la partita Abbiamo fatto un buon punteggio Twickenham Dunque dove cavolo è Twickenham Non lo vedo più Twickenham è sparito Eccolo qui 114 punti di notorietà Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Un commento E se volete Condividete Ragazzi Scusate per la rima sterco Sul finale Twickenham ci saluta Ciao Ciao ragazzi E bella a tutti Non è vero Questo qui non è Diciamo il mio saluto Solito E ci vediamo Alla prossima Ragazzi Che mi piace Già di più Ciao a tutti Ragazzi Ciao In questa facciata Puoi trovare Gli ultimi due video Che ho fatto E basterà cliccare Su di essi Per raggiungerli Se il video Che hai appena visto Ti è piaciuto Lascia un mi piace Lascia un commento E se hai voglia Iscriviti al canale Per rimanere sempre aggiornato Alla prossima